Gli autobus molisani sono vecchi, inquinanti e pericolosi. La situazione peggiore a Disernia, a rischio la sicurezza dei cittadini, i dati nel report dell'ACI. Una nuova gara per una moderna efficienza sul trasporto pubblico di Campobasso. Interviene il sindaco Gravina per la soluzione, però bisognerà aspettare il 2021. Buonasera e bentrovati dalla TGR Molise, questi titoli del nostro telegiornale. In apertura la nostra Monica Raucci ci porta alla scoperta degli autobus molisani, un parco mezzi tra i più vecchi d'Italia. Pensate che quasi il 90% dei bus ha almeno 7 anni di vita. Vediamo il servizio. Guardate com'è ridotto quest'autobus. Le immagini ce le ha inviate un autista. I dati non lasciano adito a dubbi. Gli autobus molisani sono vecchi, inquinanti e pericolosi. L'87,8% è stato immatricolato fino al 2012. Solo il 12%, quindi a meno di 7 anni. Solo negli ultimi mesi due mezzi hanno preso fuoco. Voi dite, la regione paga per la manutenzione, però a noi non sembra, diciamo, che questa manutenzione... Mi lascia perplesso, mi lascia perplesso la situazione degli alti molti mezzi. E poi la regione paga in funzione di autobus nuovi, invece il parco auto non viene rinnovato. Assolutamente, non è mai stato rinnovato. Anzi, ci sono dei casi in cui un'azienda ha venduto degli autobus più recenti per acquistarne di altri più vecchi. I sindacati lamentano la mancanza di un piano regionale per il rinnovo del parco mezzi e su questo si trovano d'accordo anche con molte delle ditte che gestiscono in appalto il servizio di trasporto. Abbiamo alcuni mezzi, dicono che hanno un milione e mezzo di chilometri, alcuni pezzi sono marcescenti. Viaggiare così diventa pericoloso. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, dice Niro, l'assessore trasporti. Il piano regionale parco mezzi è pronto, stiamo aspettando il sì del Ministero. È bastato chiedere con il passaparola agli autisti di inviarci qualche immagine e questo è il risultato. Sedili lacerati, una pedana completamente divelta, coperture che si staccano. E così qualche autista cerca di ingegnarsi con un po' di fantasia, un po' di creatività e al posto di uno specchietto rotto ci mette uno specchietto da bagno. Ma nessun'arte dell'arrangiarsi può contro parti meccaniche come i dischi frenanti in queste condizioni. In questo autobus le porte sono ottenute da alcuni spaghi. Dentro l'abitacolo di questo mezzo piove. Abbiamo visto quali sono le condizioni degli autobus. Sentiamo ora cosa ha da dire al riguardo il sindaco di Campobasso, Gravina. Lo ha intervistato per noi Fabrizio Ratiglia. I molisani e i cittadini di Campobasso non fanno che lamentarsi. Non ne possono più delle condizioni del servizio pubblico su gomma. Autobus vecchi che si rompono, che non sono mai puntuali, senza coincidenze. Cosa bisognerebbe fare secondo il sindaco Gravina? Il comune di Campobasso è eredita a una situazione ormai di 50 anni. È una gestione privatistica. Insomma è chiaro che le difficoltà ci sono anche per l'attuale concessionario che ricordiamolo svolge il servizio di trasporto pubblico per la città di Campobasso con tutti i problemi che anche il concessionario vive. Però è chiaro che dovremmo necessariamente passare per una nuova gara e perché no la competizione potrebbe favorire anche un processo di naturale svecchiamento, di efficientamento del servizio che è tanto richiesto e che purtroppo è carente. Direi che la puntualità e gli altri problemi di cui si parla e che lamentano i cittadini a volte può essere superata con una più efficiente gestione e soprattutto con dei mezzi più moderni. Si prende un impegno preciso nei confronti dei suoi concittadini in tal senso? La situazione presto migliorerà? Lo dicevamo in passato. È chiaro che per pubblicare e per andare a gara passerà un tempo tecnico quanto meno di un anno. Però spero, conclusa la fase nel 2020, dal 2021 di avere finalmente un nuovo parco mezzi con chiunque vincerà la gara del trasporto pubblico locale e soprattutto con un sistema più moderno che preveda anche delle colonie informative alle fermate, autobus a chiamata. Insomma tutto quello che una città moderna che investe nella mobilità alternativa dovrà garantire. In questa intricata situazione del trasporto pubblico locale c'è anche un versante giudiziario. Ci sono alcuni autisti che lamentano il mancato versamento dei contributi sulla vicenda. È stato presentato un esposto in procura e indaga anche la Corte dei Conti. Maria Grazia Fascitelli. Gli autisti di alcune importanti aziende impegnate nel trasporto pubblico locale hanno presentato un esposto in procura per vederci chiaro sulla mancata corresponsione di contributi finanziati dalla Regione Molise al personale dipendente. Al centro della denuncia presentata da un centinaio di lavoratori difesi dall'avvocato Giuseppe Fazio, il valore di costi spiegabilmente lievitati, soldi pubblici che saranno analizzati anche dalla Guardia di Finanza che sta conducendo delle indagini con l'ipotesi di un danno erariale da 28 milioni di euro. Proprio nei giorni scorsi il PM Barbara Lombardi ha chiesto l'archiviazione per alcune ipotesi di reato mentre per altre è stato disposto lo stralcio. L'esposto però è al vaglio anche della Corte dei Conti. I lavoratori si aspettavano circa 10 mila euro cada uno annui per quanto riguarda i contratti di secondo livello che non sono stati mai sottoscritti e che pure erano previsti nella delibera 644 del 2011 da parte della Regione Molise che aveva appunto elargito un costo a chilometro che fosse comprensivo delle spese variabili in favore dei lavoratori. I lavoratori ad oggi non hanno percepito assolutamente nulla. Se facciamo un calcolo di circa 10 mila euro per lavoratore per gli anni dal 2011 ad oggi sferiamo i 30 milioni di euro mai elargiti ai lavoratori. La vicenda parte nel 2011 quando la Regione Molise con delibera di giunta incarica consulente esterni di determinare un eco corrispettivo da riconoscere a ciascuno degli affidatari del servizio pubblico di trasporto. I costi del personale vengono così aumentati di 10 mila euro all'anno per dipendente che aggiunti alle altre voci che rientrano nel rimborso pubblico significano più soldi alle singole ditte interessate che però secondo l'accusa incassano questi soldi anziché pagarli ai dipendenti.